La dichiarazione del sindaco di Due Carrare, che non ha manifestato fretta per ratificare il vincolo della sovrintendenza, che ha salvato il castello del Cataio e il suo territorio dalla costruzione del più grande centro commerciale del Veneto, hanno convinto il comitato La Nostra Terra e Lasciateci Respirare a presentare un esposto al presidente della provincia di Padova, prendendo spunto dalla legge regionale 11 del 2004. In caso di inadempienza del sindaco, il presidente della provincia può convocare il consiglio comunale, oppure può dare un termine, portare a termine l'iter, in extremis può anche commissariarlo, questo dice la legge, ma non credo, insomma, si possa e si debba arrivare a questo. Il documento indirizzato al presidente della provincia in Oxoranzo fa riferimento al piano degli interventi che il comune di Due Carrare avrebbe dovuto adottare il 24 maggio dell'anno scorso. Il piano degli interventi è scaduto da molto tempo, da un anno e mezzo, e sarebbe dovuto essere rinnovato entro maggio 2017. Il nostro interesse per questo strumento sta nel fatto che il rinnovo diventa l'occasione per inserire in maniera inelubibile il vincolo della sovrintendenza.